Sì, guarda Sì, guarda Sì, guarda Adesso, quando sono arrivato qui Subito prendi Anche di là E qua, gamba Gamba sinistra, guarda mia gamba Sì E qua, devo essere molto più attacato Vai Eppi Basta che lui non ridritte la gamba E lui deve mettere preso subito Vai Fai morbido Non continuate a lavorare Non pensate niente altro Chiudi Vedi, adesso devi No, 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 no Lascia, lascia Chiudi 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 E guarda Questo è molto più profondo E anche molto più attaccato ai ginocchi Chiudi Oh E adesso Qua No, 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 no Ok Adesso Un poco perché il braccio magari Sì, devi ridrizzare bene qua Funziona? No, ma dico In fine poco perché Si vedi che qua non va Aiuti Si Avanti Dai Piano 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 Non c'è Non tanto ma sai perché secondo me Perché il corpo è corto Si, si, si Ma aspetta Aspetta, fai quello che era Fai quello che era Non c'è Un pipe Non tanto Adesso fai Si Si A sopportare Si 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 Va bene Si No, no, no Mi Mi Pianca Abbiamo Di Mhow Molto Più Più Pianca Ma Pianca Pianca destra subito va stop prendi cabilla e vai dove vuoi andare no, putti che viva no, putti che viva no, putti che viva si vediamo no, no, no Lavora con gambe e bene. Funziona? Sì, adesso la posso. Devi spingere con pancia avanti. Guarda, vai così. No, no, vai così. Spingi con un uomo, vai. No, è liberato. Uscito, bene. Però sai perché? Perché non sta. No, secondo me sai perché è. Non, no, sai perché? Secondo me, secondo me, quindi adesso io vado, vedo, si dovrò svare. Stop! Stop, hai sbagliato! Sì, che cazà. A šà, ho vai a fare. A khuma, ott, prendi tavelli. No, no, prendi talpa, talpa, talpa. Non, no, dai, dai, dai. No, no, dai, dai, dai... a a a a a